Assurdamente il tempo degli ultimi giorni forse ha fatto bene alle mele, nel senso che sì, avevamo poi ogni pomeriggio e di notte il diluvio e la pioggia, però ci sono state sufficiente ore di tempo buono per iniziare il raccolto e ripeto, siamo appena all'inizio del raccolto e specialmente la frescura dei primi dieci giorni di agosto ha aiutato moltissimo alla colorazione delle mele, siamo all'inizio raccolta della prima varietà Royal Gala e basta andare a vedere nei campi il colore splendido, dunque abbiamo iniziato comunque bene questa prima parte del raccolto della gala. L'Alto Age, se i tecnici hanno ragione, aspetta un raccolto record, parliamo di 1,2 milioni di tonnellate in pianta, se avranno ragione i tecnici e guaglieremo il record del 2011.